Seconda sconfitta consecutiva per il frosinone Primavera che cade sul campo della capolista Ascoli, 1-0 il finale. Padroni di casa vicini al gol in apertura, punizione tagliata di scorza e tocco sotto misura fuori di Beretta, attaccante della prima squadra sceso in campo con la Primavera dopo un lungo stop per infortunio. Ascoli pericolosissimo alla mezz'ora, ancora con l'ex attaccante di Lecce Foggia che di testa da buona posizione, non inquadra lo specchio della porta. Il secondo tempo si apre con il diagonale di Morelli parata a terra del portiere di casa. Subito dopo fallo di Obleac su Beretta e calcio di rigore per l'Ascoli. Dal dischetto trovato ipnotizza D'Agostino e salva il frosinone, rigore parato e parziale che non si sblocca. All'undicesimo della ripresa arriva però il gol che decide il match, stavolta sul cross di Pulsoni. Beretta è implacabile, pallone in rete, è successo casalingo dell'Ascoli che si conferma capolista del torneo. Il frosinone gioca una buona partita ma non basta per portare a casa punti.